Gli highlights di questa corsa con la partenza di Marco Cioci dalla pole position, si guarda le spalle da parte della Mercedes con l'attacco di Crestani all'esterno mentre vede anche la Lamborghini di Kangling andare in attacco in quarta posizione, il contatto con Lewadowski mentre è già uscita di scena la Lamborghini di casa imperiale con questo contatto con Mull colpito da Damiano Fioravanti in curva 1, sportellate anche per Di Folco e Michel Mack il danese riesce però a passare in denne questo invece è il contatto fra Ling e Di Folco che manda in testa coda il pilota italiano e vede il cinese dover rientrare i box per i danni subiti due Lamborghini, contatto fratricida con Serra che va all'attacco di Huck portandosi in prima posizione la Ferrari riesce comunque a dimostrarsi competitiva nella prima parte di gara, il sorpasso dai danni di Gellwitz da parte della Lamborghini numero 90 del team target, Sowery e Saravia in lotta per le posizioni di rincalzo, il contatto tra Di Amato e Brokers che manda entrambi in testa coda a di che recriminare la Lamborghini numero 25 di imperiale per il successo assoluto, questo invece è il sorpasso che vale la leadership momentanea di Valentin Pierburgo con Serra che successivamente lo supererà sul traguardo, va il pilota brasiliano a conquistare il primo successo della stagione insieme a Marco Cioci portando nuovamente il team Luzic davanti a tutti, Valentin Pierburgo e Tom Osloncollo festeggiano la classe Pro-Am il secondo posto assoluto, l'abbraccio tra Luzic e Cioci al ritorno in campionato con Serra Serra e Grazie a tutti Grazie a tutti